proprio te, finisco adesso con tanto ottimismo, proprio tanto 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 che vedi questo libro? Non vedo l'ora di iniziare a fare come tu mai adesso ci hai indicato con tutte le varie cose, ho preso un sacco di appunti e non vedo l'ora, ho le mie fighe e gli sto dicendo dai dai switch 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 da stamattina che li faccio fare così compiti, però ti dico ho iniziato venerdì che avevo proprio una depressione e oggi mi sento al 100%, stanotte non ho mai dormito perché ho avuto un problema eppure mi sento carica tantissimo, quindi lo switch funziona